Ciao amici di Star Casino Sport, benvenuti in questo nuovo video, qui con voi è Sciale Boom Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene Innanzitutto, ovviamente, prima di iniziare con il pre-partita di Liga-Varsavia-Napoli Vi voglio dire di iscrivervi al canale Ovviamente iscrivetevi al canale e attivate la campanella Per non perdervi i contenuti di altre persone su questo canale, sul canale di Star Casino Sport Allora, detto questo, spero che state tutto bene, forza Napoli, fate tutte le premesse Siamo qui in questo pre-partita, come avete letto dal titolo e come avete visto dalla copertina Pre-partita di Liga-Varsavia-Napoli Questa partita si giocherà domani alle ore 18.45 Allora, con calma, partiamo Con calma vi voglio spiegare un po' quello che penso su questa partita E un po' il mio pensiero su come sta andando il nostro percorso in Europa Allora, questa partita sarà considerazioni personali Prima di poi analizzare effettivamente le formazioni come saranno Il Napoli come giocherà Spalletti come preparerà la partita Considerazioni personali su questa partita Sarà una partita difficile Perché ovviamente il Liga-Varsavia giochiamo in Polonia E tra l'altro, piccola parentesi, ci saranno anche 600 tifosi del Napoli A sostenere ovviamente i ragazzi Quindi è una cosa importantissima, una cosa bellissima Vi stavo dicendo Non sarà una partita facile Non sarà una partita facile secondo me perché il Liga-Varsavia ha bisogno di riscatto Il Liga-Varsavia vi sembrerà strano ascoltare le mie parole Ma è la realtà dei fatti I dati statistici parlano Il Liga-Varsavia è il primo nel nostro girone E nel girone ovviamente con Spartak, Mosca, il Napoli e il Leicester Il Liga-Varsavia è primo a 6 punti Quindi noi giocheremo contro la prima del girone Ovviamente c'è da dire anche che Noi abbiamo vinto la partita precedente sempre di Europa League Contro proprio il Liga-Varsavia 3-0 in casa Noi eravamo appunto allo stadio grazie a Star Casino Sport E il Napoli ha vinto 3-0 in casa contro il Liga-Varsavia Partita che nel primo tempo si era fatta difficile Ma poi nel secondo tempo fortunatamente con Golden Signy e Dosyman Si è sbloccata subito la partita Quindi io in Polonia sicuramente mi aspetto una partita difficile Perché il Liga-Varsavia viene da diverse sconfitte Anche se se non sbaglio l'ultima in casa l'ha persa la penultima Mi sa che ha vinto fuori casa Però ovviamente il Liga-Varsavia non è che sta andando benissimo in campionato Vuole sicuramente riscattarsi in Europa E vuole riscattarsi da questo 3-0 contro il Napoli Quindi sicuramente sarà una partita difficile D'altra parte però c'è il Napoli che è sicuramente pronto Il Napoli è sicuramente pronto Dopo la sconfitta contro lo Spartak Mosca Diciamo che i nostri sogni erano un po' svaniti Ma dopo la vittoria 3-0 contro il Liga-Varsavia E la prima partita contro l'Ester 2-2 con doppietto Siemens Ci hanno fatto vivere quei sogni di continuare appunto questo percorso europeo Questo percorso europeo può continuare Può continuare appunto abbiamo detto con Con la vittoria che abbiamo fatto contro il Liga-Varsavia E con questa partita che giocheremo in casa loro Sempre contro il Liga-Varsavia E sicuramente ci sarà un turnover Turnover tra virgolette forzato che farà Spalletti Perché sicuramente non giocherà Ozyman Sapete che si è infortunato Speriamo di recuperarlo contro il Verona Sicuramente non ci sarà Penso non giocherà Manolas Sicuramente non ci sarà Non giocherà Malqui In porta giocherà Meret Quindi ci saranno diversi cambi Però la formazione Spalletti Comunque secondo me la preparerà bene E secondo me Io ve lo dico E la formazione secondo me sarà così Ospina riposa e quindi gioca Meret Perché Ospina sta giocando in campionato Sta dando sicurezza Però è giusto far giocare anche Meret In difesa sicuramente giocherà Di Lorenzo Che non sta assaltando una partita Come l'anno scorso Come negli scorsi anni È un terzino Un difensore Non ne possiamo fare a meno Rachmani E penso giocherà One Jesus sulla fascia Quindi Mario Rui Sicuramente sarà out Perché ha avuto due giornate di squalifica Secondo me Inmeritatamente A centrocampo Ho dei dubbi Perché potremmo far giocare Far fare dei minuti Allo Botka Che non vedo da parecchio tempo in campo Ma non credo partire titolare Sicuramente titolare Partirà Demme Quindi non so se vedremo Un centrocampo a due Con Demme O con Fabio Ruiz O Anguissa Penso che farà riposare più Fabio Ruiz Anguissa è un cavallo Fa paura Può giocare tre partiti al giorno Veramente Fa paura Oppure far riposare tutti e due Quindi far riposare sia Fabio Ruiz E sia Anguissa E fare un centrocampo a tre Quindi con Zirisky Elmas E magari Demme Però non lo so In Napoli secondo me Giocherà con un 4-3-1 Poi sulla tre quarti Penso giocherà Lozano Bisogna dare fiducia A questo ragazzo Penso giocherà Elmas Insigne Perché contro la Serenitana Non c'è stato E quindi Secondo me È al 100% per giocare E io vi dico la mia Secondo me In attacco Come punta centrale Riposa Mertens Che ha giocato titolare Contro la Serenitana E secondo me Giocherà Petagnone Piccola parentesi Petagnone Bisogna dare fiducia A questo ragazzo Bisogna dare fiducia A questo ragazzo Perché noi Anzi Mister Spalletti Ha deciso di farlo rimanere È una pedina importante Quando non ci sarà Osimene Sicuramente ci darà una mano E come Domani Osimene non ci sarà Mertens Secondo me Partirà dalla panchina E quindi Petagna Ha una grande chance E partirà Secondo me Titolare Ora Il Lega Varsavia Non so Come giocherà Ma ve l'ho detto Non sarà facile Non sarà facile Leggendo ora Il girone Il Lega Varsavia Come ho detto prima È a 6 punti Il Napoli a 4 Il Leicester a 4 E lo Spartak Muska A 3 Secondo me Come va a finire Va a finire Che il Lega Varsavia Perde contro il Napoli In casa Quindi Il Napoli va a 7 Il Lega Varsavia a 6 E secondo me Va anche il Leicester a 7 Perché il Leicester vince Contro lo Spartak Muska Questo è un girone difficile Quindi ci ritroveremo Praticamente Con Napoli 7 Leicester 7 E il Lega Varsavia a 6 E il Lega Varsavia a 6 Se il Napoli vince E se il Leicester vince Poi nel pallone rotondo Scusate E nel calcio Può capitare di tutto Vedremo Vedremo domani Come andrà Sicuramente Però sarà una bella partita Vista Spalletti Sicuramente Avrà studiato La formazione ideale E la formazione adatta Secondo me Finisce Vi dico anche Il pronostico 2-0 Per il Napoli Il Lega Varsavia Secondo me Non segnerà E il Napoli farà 2 gol E segnerà proprio Andrea Petagna Me lo sento Ve l'ho detto Ho detto anche il pronostico Quindi Il video può finire qua Speriamo di vedere Una bella partita domani Anche perché poi Come ho detto prima Se il Napoli vince Se il Leicester vince Noi dobbiamo giocare poi Contro il Leicester in casa Dobbiamo giocare a Mosca E' un bel girone Devo dire la verità E' un bel girone Poi da quest'anno È cambiata anche la regola Di primo Secondo Chi passa Un casino Come si chiama La conferenza L'Ingh Stato dicendo Con Ishael League Vabbè E' difficile E' particolare Come girone Devo dire la verità Però Questo è il bello del calcio Quindi Noi giochiamoci Vinciamo E poi dopo Vediamo cosa succede Quindi ragazzi Il video finisce qua Grazie mille a tutti Per la visione Lasciate un bel like Un bel commento Iscrivetevi al canale Sempre Forza Napoli Domani dai Sarà una bella partita Lega Varsavia a Napoli Speriamo che vinca il Napoli Ciao Andiù Grazie mille a tutti Grazie mille a tutti Grazie mille a tutti